ciao questo è il solito video di quando riesco a guardare qualche film nuovo che questo qua e voglio dedicare questo video a questo film che si chiama guardia guardia off time che è un film del 2023 che il solito film avventura fantasy come film che è il solito film americano degli stati uniti che come regia di e di questo stephen shimek che sono ricoperto a sono riuscito a recuperare nel guardare le grazie che adesso lo hanno messo sulle solite sulle solite piattaforme che questo film parla più che altro di quattro cugine che scoprono un passaggio nel palazzo di famiglia che conduce nel misterioso regno di che o e russ che intrappolati in questa terra devono affrontare il guardiano del tempo che le forze oscure le bestie per trovare proprio la strada la strada di casa che a farla magari breve la trama magari in sede la trama in sede del film e a e a questa qua che come si dice che a chi piace magari questi film di azione fantasy sicuramente magari come film li può piacere che li volevo tipo come ho detto prima amore di dedicargli un video sul mio canale visto che sono riuscito a recuperare ma non nel guardare che come al solito vi lascio tutte le informazioni sul film e tra il cast video trailer tutte sotto in descrizione oltre morai e si riesco si riesco a trovare qualche altre informazioni più la metodo come al solito sotto tutto sotto in descrizione che più che altro la trama amare in sedele del film era questa qua che un giorno nella tenuta di famiglia che questi quattro cugini scoprono questo passaggio verso un mondo misterioso che questi quattro cugini intrappolati magari in questa terra di sotterrata che regno di chi si chiama proprio il regno di coerus devono confrontarsi con proprio con il guardiano proprio del tempo e affrontare magari queste forze scure ebbe certe bestie per ritornare per tornare a casa che essendo come film magari fantasy magari ci poteva magari anche sa anche stare che nel compresso questi film americani sono fatti anche bene anche come si svolge anche la trama durante il film e come sono anche girate le scene ho visto che a chi piace mai il genere fantasy sicuramente uno di quei film magari da andarsi a recuperare di di andarselo a vedere almeno una volta per avere magari una opinione che dopo logicamente può andare anche anche agosti proprio più che altro nella trama del film e a questa qualche vi ho detto che anche se può avere e se può essere ma lei del 2023 vorrei non voglio di amarei particolari sul film su come si svolge magari la trama per chi magari non l'alco ha visto però nel compresso ho visto che a me che a me in particolare ha piaciuto dopo a chi piace può dare anche a gusti che a chi piace questi film e fantasy magari non è come si dice può magari non piacerli però come stavo dicendo può andare anche anche agosti come film che li volevo visto che sono riuscito a recuperare recupera 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 recuperarmi l'ho visto che non ho messo sulle solite piattaforme li volevo tipo dedicargli questo video sul sul mio sul mio canale e niente che quello che potevo dire l'ho già detta massimo tutte le informazioni che riesco a trovare su questo film le trovate tutti sotto in descrizione e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente ciao